Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù espone alla folla un'altra parabola dicendo Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico Seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto spuntò anche la zizzania Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero Signore non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro Un nemico ha fatto questo E i servi gli dissero Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose Perché non succeda che raccogliendo la zizzania Con essa sradichiate anche il grano Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura E al momento della mietitura dirò ai mietitori Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla Il grano invece riponetelo nel mio granaio Espose loro un'altra parabola dicendo Il regno dei cieli è simile a un granello di senape Che un uomo prese e seminò nel suo campo Esso è il più piccolo di tutti i semi Ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto E diventa un albero Tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami Disse loro un'altra parabola Il regno dei cieli è simile al lievito Che una donna prese E mescolò in tre misure di farina Finché non fu tutta lievitata Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole E non parlava ad esse se non con parabole Perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Aprirò la mia bocca con parabole Proclamerò cose nascoste fino dalla fondazione del mondo Poi congedò la folla ed entrò in casa I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli Spiegaci la parabola della tizzania nel campo Ed egli rispose Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo Il campo è il mondo E il seme buono sono i figli del regno La zizzania sono i figli del maligno E il nemico che l'ha seminata è il diavolo La mietitura è la fine del mondo E i mietitori sono gli angeli Come dunque si raccoglie la zizzania E la si brucia nel fuoco Così avverrà alla fine del mondo Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli I quali raccoglieranno dal suo regno Tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità E li getteranno nella fornace ardente Dove sarà pianto e stridore di denti Allora i giusti splenderanno come il sole Nel regno del Padre nostro Chi ha orecchi Ascolti Ecco siamo ancora nel discorso delle parabole di Matteo E ascoltiamo oggi una parabola che ha solo lui La parabola della zizzania Cioè dell'erbaccia E del buongrano Che crescono insieme Poi ci sono altre parabolette che Matteo ci propone Ma questa è molto simpatica Ecco è una parabola che come tutte le parabole Vuole rispondere a una domanda E la domanda è Ma perché c'è il male nel mondo E Dio non fa niente E' una bella domanda Perché i malvagi possono impunemente operare nella storia E fare tanti danni Ecco perché Dio non punisce i cattivi subito Diciamo così Ecco allora Gesù racconta questa parabola In cui il Regno dei Cieli è sempre paragonato Appunto Gesù vive in una società agricola Pastorale E quindi le sue parabole sono piene di campi Di fiori Di animali Di erbe Di pesci Di natura Ecco diciamo così Tutto parla di Dio Tutto diventa segno del Regno di Dio E allora dopo una bella semina fatta bene In un campo Invece in questo campo Non cresce solo il grano Ma cresce anche l'erbaccia Non solo i papaveri Ma proprio la zizzania L'erbaccia cattiva E allora Che cosa dice la parabola? Dice E' venuto un nemico Di notte E ha fatto questo E ha seminato la zizzania Ha seminato Un'espressione che è diventata anche proverbiale Seminare zizzania Seminare discordia Da noi vuol dire Ma che vuol dire cattiveria E allora E allora il padrone dice No ai servi che vogliono fare subito giustizia Tiriamola subito via No perché potreste sradicare anche il grano La giustizia non va fatta da noi La giustizia la fa Dio La fa il Signore Alla fine di tutto Perché alla fine di tutto? Perché Dio aspetta Perché Dio spera e aspetta Che anche la zizzania diventi buon grano Che anche i cattivi diventino buoni Come diceva San Giovanni Buscono La famosa preghiera Signore fa che i cattivi diventino buoni E che i buoni diventino simpatici Ecco Perché Dio ha misericordia Perché Dio aspetta fino all'ultimo istante della vita Che ogni persona possa aprire il cuore al suo amore Alla fine certo Alla fine tutto sarà Come dire chiaro E tutto sarà giudicato sul metro dell'amore Non è che alla fine Dio diventa cattivo Alla fine quando arriveranno gli angeli Bruceranno la zizzania nel fuoco Non c'erano questi banchi neanche forti Cioè elimineranno tutto il negativo Toglieranno tutto il peccato dalla storia del mondo E rimarrà solo il bene Solo l'amore Allora i giusti splenderanno come il sole Ecco tutto ciò che avremmo vissuto nell'amore sarà valorizzato Sarà conservato per sempre Ma intanto però ci vuole la pazienza La pazienza di vedere le nostre opere buone Insieme anche alle nostre opere cattive Perché prima di tutto la zizzania ce l'abbiamo dentro Non è solo una cosa esterna I fatti del mondo Ma è anche dentro il nostro cuore In cui non nascono solo buoni sentimenti Buoni pensieri e buone azioni Ma nascono anche tante cose cattive E allora la pazienza di Dio Di attendere che davvero trasformiamo Prima di tutto dentro di noi e fuori di noi La zizzania in buon grano Con il Signore questo è possibile La zizzania in buon grano La zizzania in buon grano Grazie a tutti.